Altro argomento, i benefit che avete come italiani, e tu Michele che l'hai commentato, iscritto Aire lo sai, ok? Non andrò troppo per il sottile perché poi dovremmo fare un capitolo a parte solo per questo. Uno dei benefit che si perde quando si va a vivere all'estero, ma regolarmente però, cosa vuol dire? Iscritto Aire, ok? Come residente italiano all'estero. Cosa vuol dire? Quando vi trasferite all'estero dovete andare in consulato o ambasciata, vi registrate, ok? Chiedete di essere iscritti al registro Aire del vostro comune di residenza italiano, ultimo comune di residenza. Quindi io sono iscritto nel registro Aire del comune di residenza italiano del Garda, ok? Facendo questo, di fatto, perdi uno dei benefit più importanti, perdi la garanzia all'assistenza sanitaria. Questa assistenza sanitaria che in Italia è tanto bistrattata, ma tanto male, fidatevi, comunque non è, ok? Soprattutto così dato che è gratuita, anche se pagata a suon di tasse. Quindi, senza entrare troppo nel merito, questo è uno dei benefit, diciamo, più grandi che si perde iscrivendosi all'Aire. Però, d'altronde, ragazzi, se volete 0% di tasse, volete andare a vivere al caldo tutto l'anno, tranne giugno, luglio, agosto, settembre, la metà giugno quest'anno, penso che sarà fino a settembre, sarà abbastanza insopportabile. Però, se volete dei vantaggi da una parte, dall'altra qualcosa si deve cedere. Si può avere l'assistenza sanitaria in Italia, come residenti iscritti Aire, chiedendo all'ASL, fino a un massimo, se non sbaglio, correggetemi se dico cavolate, 90 giorni, 180, c'è un limite annuale. Andate all'ASL, residenti a Dubai, residenti esteri, andate all'ASL, richiedete di avere l'assistenza sanitaria, avete un massimo di giorni annuali. Ok? Quindi questo è uno dei benefit più importanti che si ha quando si diventa residenti iscritti Aire, esteri residenti iscritti Aire. Ok? 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 Ok?